Sono passate, non lo so, due o tre settimane, sono ancora emozionatissima e ormai credo di aver realizzato, però se continuo a pensarci, mi guardo allo specchio e dico campionessa del mondo, è difficile crederci. Non capita tutti i giorni di vincere un titolo iridato, ecco perché meritava di essere festeggiato nel migliore dei modi. Paola Piazzolla lo ha fatto con amici, parenti e sostenitori a tre settimane dal trionfo nei campionati mondiali Under 23 di canottaggio a Rotterdam e dalla medaglia d'oro vinta nel 4 di coppia Pesi Leggeri Femminile insieme a Giorgia Lobue, Asia, Mare Gotto ed Allegra, Franca Lacci. Ha coronato il suo sogno l'atleta cresciuta con la sezione di barletta della Lega Navale Italiana sotto le cure del tecnico Cosimo Cascella, un sogno rincorso per tanti anni. Io sono anni che aspettavo questo giorno, che sognavo questo giorno, finalmente è arrivato e quest'anno è stato davvero durissimo perché sono partita che non avevo gli stessi valori fisiologici che ho raggiunto a luglio durante il raduno, quindi diciamo è stato difficile anche dal punto di vista psicologico, però non l'ho mai mollato, ci ho sempre creduto e ce l'ho fatta. Soddisfatta sì ma non appagata, l'attuale portacolori dei vigili del fuoco Billy Masi di Pisa è pronta ora per compiere il grande salto nel canottaggio dei senior. Io sono pronta e continuerò ad allenarmi, quest'anno ho intenzione di allenarmi ancora di più proprio per questo, perché ho intenzione di farmi un posticino nella squadra senior e quindi di conseguenza con l'olimpica. Se ti dicessi Tokyo 2020? Un sogno, un sogno ma anche un obiettivo, ce la metterò tutta, mancano ancora quattro anni quindi il cammino è lungo però l'obiettivo è quello, quindi ce la metteremo tutta. È un percorso coerente, iniziato da giovanissimo, ha fatto tutte le tappe dell'ambito giovanile e adesso sta piano piano approdando dall'anno 23 fino all'attività open e sicuramente è una speranza del canottaggio ma ovviamente dello sport italiano. È stato un anno da incordiciare per la versione femminile dello sport barlettano che oltre al capolavoro di Piazzolla a Rotterdam può vantare il titolo e ridato junior a squadra di Loredana Spera ai mondiali indoor di tiro con l'arco ad Ancala e la partecipazione di Veronica Inglese nell'atletica leggera alle recenti Olimpiadi di Rio de Janeiro. Le tre ragazze della città della disfida tra l'altro sono molto amiche e si stimano a vicenda. Io, Veronica e Loredana ci conosciamo, siamo amiche e io sono davvero contenta di far parte, diciamo tra virgolette, di questo trio barlettano. Per me è un vero onore conoscere Veronica, conoscere Loredana, sono davvero contentissima. Sono diversi anni che diciamo che queste tre atlete sono di livello prima nazionale, adesso internazionale. Abbiamo visto giusto, ma del resto era, non dico facile, però era intuibile che i grandi sacrifici di queste tre ragazze coronassero in quello che stanno vivendo.